Sira no, un bacio, ma cos'è poi un bacio? Un giuramento, un po' più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo roseo fra le parole tamo, un segreto soffiato in bocca invece che all'orecchio, un frammento d'eternità che ronza come l'ali d'un'ape, una comunione che sa di fiore, un modo di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle labbra il sapore dell'anima. Grazie a tutti.